La prognosi rimane riservata ma il paziente ha lasciato la rianimazione e trasferito in chirurgia d'urgenza per le migliorate condizioni generali, si legge nel bollettino dell'ospedale di San Leonardo. Intanto vanno avanti le indagini sull'attentato all'avvocato Giampiero Dell'Ibovi, mutilato da un pacco bomba che gli era stato raccapitato nella sua abitazione a Monte Corvino, Rovella, lunedì mattina. Gli investigatori si stanno concentrando sull'attività professionale, l'ipotesi della pista politica a poco più di una settimana dalle elezioni amministrative sembra piuttosto una casualità indotta. Chi ha lasciato il pacco imbottito di esplosivo aveva meditato l'agguato, il giovane civilista doveva essere colpito in modo mortale, anche la scelta del giorno a poca distanza dalla tornata elettorale potrebbe non essere casuale. Nella pianificazione dell'agguato la data potrebbe essere stata individuata anche per confondere gli investigatori inducendoli a far credere a ipotetici collegamenti con la vita politica della vittima. Il pacco bomba era rudimentale ma mortale, assemblato all'interno di una scatola di un noto spedizioniere per rendere più credibile il fatto che si trattasse di un plico consegnato da un corriere. Di certo era piuttosto pesante dato il quantitativo di esplosivo usato che ha avuto una forza deflagrante molto devastante. Su tutti questi aspetti farà luce la relazione degli artificieri che sono intervenuti sul posto. L'esplosione ha fatto saltare subito la mano sinistra e compromessa l'altra in modo grave. Il congegno si è attivato appena Delli Bovi ha aperto la scatola. Da due giorni è in corso un continuo lavoro investigativo da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia guidati dal maggiore Eric Fasolino. Diverse sono le persone finora sentite a sommarie informazioni nelle indagini dirette dal pubblico ministero Katia Cardillo. Molti sono stati sentiti sui dettagli relativi al falso fattorino. Uno dei premi obiettivi è risalire all'identità di chi ha collocato il pacco davanti all'abitazione di Delli Bovi. Si scava anche nella memoria degli apparecchi in uso all'avvocato come personal computer e telefonini per trovare tracce utili alle indagini. Anche le pratiche seguite dal 29enne avvocato sono sotto esame. Si guarda con attenzione anche a quegli incarichi che hanno riguardato questioni patrimoniali, quelli che statisticamente danno origine a forti screzzi tra gli attori talvolta legati da vincoli parentali.